io vado da su par perchè tutto mi piace faccio molto divertenti io gioco in zegè mi piace tantissimo su par noi che siamo villageri io mi arrabbio sempre ogni ora vai a mostrare la tua par i piattono le ragazze che hanno le tette grandi non si dicono le panocce scherzo